si stiamo dimenticando auri secondo te non lo so non lo so secondo me è qualcosa di importante un'altra casa dove potermi divertire penso che dovrò entrare con la mia polvere magica oh mannaggia mi sono pure dimenticata il ciuccio di aurora oh mio dio ma tu da dove stai fuori ti ho detto vinti molto allora devi stare tranquilla non succede niente pronta uno due uno due tre madonna sei troppo peccante è iniziato il video aurora buongiorno a tutti benvenuti in questo notte dove sei sei di qua guarda 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 qua guarda qua guarda qua ma che ti sembra molti sembra molti guarda guarda hai preso pure il braccialetto aurora si auri questo richiede questo qui è mio non è natale manca ancora un po' non è natale manca ancora un po' è natale ma che buono che buona aurora aurora sento però che ci stiamo dimenticando qualcosa di essenziale auri auri cosa stiamo dimenticando del natale che cosa e cosa stiamo dimenticando non lo so chiamiamo la sapientina che sicuramente lei saprà cosa stiamo dimenticando chiama com'è laura vieni qua un attimo vieni qua un attimo dai vienici dopo di cucinare vieni qua vieni qua pappagallo oh ditemi cosa volete auri ehi laura questi due hanno sempre bisogno di me si lo so sono l'intelligente della famiglia ditemi pure ragazzi laura laura provoca natale ci stiamo dimenticando qualcosa eh si però cosa ci stiamo dimenticando auri secondo te non lo so non lo so secondo me è qualcosa di importante latte e biscotti per babbo natale no auri ma deve ancora arrivare cosa è possibile qualcosa di più essenziale eh sapientina non è che hai voglia di darci una mano tu perché noi non abbiamo minimamente idea di quello che ci stiamo dimenticando ah fatemi pensare cosa potreste esservi dimenticati l'albero di natale l'abbiamo fatto decorazioni natalizie si le abbiamo fatte latte e biscotti è impossibile perché dobbiamo farlo la sera prima che arriva babbo natale ehm ma certo non vi state dimenticando di qualcosa vi do un indizio regali la la bo la 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 come stiamo dimenticando la 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 cosa auri la letterina la letterina di babbo natale è vero fatte 5 auri è vero altrimenti come ci arrivano i regali brava laura brava ma se non facevamo la letterina di babbo natale babbo natale non sapeva i regali che volevamo si sto parlando al più grande perché anche io devo fare la letterina auri però quindi dobbiamo fare subito siamo un po' in ritardo vogliamo andare a parlare dobbiamo farla adesso subito non ho voglia adesso no 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 e dai il andiamo laura andiamo voglia di farla adesso ma ehhh adesso volete fare la letterina in realtà stavamo per farla mangiare mmm proprio qua dovete mettervi in mezzo alle scatoline va bene va bene mettetevi qua insieme a fare la letterina di Babbo Natale comunque solo per Aurora è la letterina di Babbo Natale papà Mike non è anche per te ti preoccupai c'è anche la letterina che è per Paolo uno qua e ora vi prendo la sedia per Babbo Mike per me è il foglio è vero che vai il foglio voglio 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 ora vi do tutto lo corrente foglio è quello ma state tranquilli foglio foglio silenzio foglio forse è meglio stare un attimino buoni tu sei adulto dovresti dare ragione a me quindi siedi qua e fai silenzio mi saluto fermi qua adesso arrivo vado a prendere i fogli dai però fai veloce Laura fai veloce si vabbè fai veloce fai veloce fai veloce fai veloce fai veloce dai 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 vai 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 ok spieghiamo faccio veloce vai vai vaiO x1 vuoi off fai aney fai 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 per aurora mi raccomando e ho portato due penne perchè lei farà il disegnino per babbo natale e tu scriverai la letterina per babbo natale tenete ma come se noi usiamo direttamente la bella possiamo fare due letteri e calmiamoci però io voglio questa qua però possiamo fare direttamente due letterine una per babba mike e per bau e una per aurora e anche noi comunque siamo ancora abbastanza piccolini per fare la letterina vero auli posso fare la tovaglia posso fare anch'io la letterina auli e chi la fa sono tu la fai come dici tu sei brutta cattiva basta non si scrive io mi metto qua con voi voglio vedere cosa scrivete dai laura vieni qua vieni qua con noi bisogno di me perchè non sapete ma no laura si sembra che pensi male no no allora dobbiamo scrivere la letterina di babbo natale cosa scriviamo come la iniziamo la letterina io voglio no 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 non si dice io voglio mi piacerebbe devo avere mi piacerebbe avere vorrei ma no laura non si fa così si allora devi dire a papà che si fa così no 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 laura non si fa così guarda come sa lauri scrivi come me da qua parti da qua in alto scrivi forse non sa scrivere a tre anni ma abbiamo babbo natale capisce tutte le scritture deve a scrivere caro caro babbo natale esatto bravissima caro babbo natale e dopo come ti chiami sono aurora io vivo sono papà mike sono paolo ok sono stato molto brava ma devi dire quanti anni hai ho tre anni tre anni e sono molto brava ancora sono molto bravo io parlo per paolo un'altra casa dove potermi divertire penso che dovrò entrare con la mia polvere magica sto arrivando ma neanche aurora siete pronti a temermi a volte faccio i capricci ok poi cosa potremmo dire adesso penso che comunque siamo giunti al punto che dobbiamo mettere i regali dobbiamo dire i regali auri allora cosa vorresti per natale piano piano una volta cosa vorresti che non ho capito a una alla volta uno quale vuoi la cucina allora la cucina ma io scrivo anch'io scrivo anch'io scrivi amari stai scrivendo tutta una lettera sopra l'altra vai scrivi io voglio la cucina lavatrice ok la cucina virgola la lavatrice la lavatrice e dopo e dopo e quello sia il ferro da stiro e il ferro da stiro punto perfetto ciao ciao babbo auri capire la letterina dobbiamo metterla sull'albero va bene allora allora niente letterina laura dici qualcosa anche tu perchè lei non vuole mettere la letterina nell'albero no io metto così qua io la mia ce l'ho ah aspetta per per aurora per babbo natale scriviamo da aurora facciamo così per babbo ti prego prego per babbo ti prego non ho te ne soio va bene la mettiamo nell'albero di natale adesso dobbiamo correre a mettere nell'albero ma laura aiutaci curiamo laura e poi andiamo a venire anch'io però eh e vi do anche la mia dove la mettiamo auri ma ma non è piegata molto bene eh però va bene non importa babbo natale legge tutte le cose ma ma è che non sei stato molto bravo a scrivere questa letterina eh e li troppo è fredda a scrivere cosa volevi e basta mettiamo qua una e qua la quella di aurora e speriamo che babbo natale arrivi se siete stati bravi babbo natale arriverà altrimenti vi porterà solo il carbone io non voglio il carbone ma gli origami nooo ho bravo l'ischio di prendere il carbone ma noi noi invece siamo stati bravi poi comunque abbiamo un segreto ma lo stai facendo? sto mangiando il cioccolatino tutto mio questo di chi è questo cioccolatino? ma è mio mio è un peccolino un peccolino piccolino ragazzi ora che abbiamo messo le letterine di babbo natale sull'albero è ora di andare a lavarsi scama la pipì scama la pipì bene allora già che ci siamo andiamo in bagno e facciamo la pipì così poi anche papà mai viene in bagno con te e si lava tutto andiamo salta su olè ma mi aspettate che mi ha a bau aspettate prendete bau veloce si si andiamo 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 ma non stai andando addosso con bau tutti a lavarsi il natale di michael aurora cambierà a questo momento le letterine di babbo natale sono convinti di passare un bel natale nessuno passa un bel natale come i rigadienss 8x8 ora prenderò le letterine e le distruggerò oh mannaggia mi sono pure dimenticata il ciuccio di Aurora oh mio dio ma tu da dove state fuori no mi hai visto